Eccoci quindi ritornati al DLC, sempre con il raffreddore e la voce schifosissima, per continuare. Allora, ho preso un po' di frecce, 273, 151, sempre so di equipaggiamento. Eh, beh, beh, cos'ha? Beh, stiloso. Allora, allora, avevamo detto di andare di... Allora, qua che serve? Ok, bisogna trovare l'oscetto di ferro, che sarà? Ok, qua è sempre chiuso. Allora. Ok, là sotto mi sa che ci si va. Allora, torniamo di qua. Eh, eh. Eh. Allora, andiamo qua. Mi inseguono. Sì, mi inseguono. È sempre quei muri. Prossimo. Oh, ecco di qua. Ah, ok, ha cambiato arma. Stava avesse solo l'alto. Andiamo di qua. Andiamo... Allora. Allora. Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Ehm... Eh. Eh. Eh, eh. Oh, 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 oh. dai non posso morire come un fantasma del gioco secondo me devo rimettere uno scuro maggiore stabilità dove vai? buio 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 maledizione eh questi sono pure i corazzati quindi vai e cadi tutto è buio tutto è buio maledizione maledizione torniamo su che non mi va di prenderla vediamo qua che c'è che me l'ho scordato adesso vediamo un po' cosa trovo qua giù eh ma mi sa che ne suscita come con la prima statua la seconda statua che ho incontrato eh si non si si rialza ok andiamo giù impavido su impavido nada pigliamoci sta maledizione maledizione oh togliamo sta statua del cacchio adesso fan culo se muo- eh mi hanno eh vabbè adesso so come sfondare di botte stavolta stavolta facciamo un attacco dall'alto un dead from above che va liscio liscio dall'alto dall'alto non mi puoi attaccare non puoi sfuggire guarda che bello guarda che bello costa tutto spie vogli dov'o 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 v av 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 Grazie a tutti Ah c'è una scatola E Secondo me appena la tocco E infatti infatti Ciao belli Ciao è stato un piacere Madonna Kung fu Da quando è che ne vici hanno cominciato a fare tutto questo kung fu Spadone oscuro Ottimo Allora Vediamo che c'era dentro questa scatola Di così temibile perché Aveva tutti questi guardiani Spadone mastoso Oh Bah Ecco che fa Dov'è 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 Ecco qua Peccato che gli chieda troppa destrezza Perché Carino Che dice Erano mancini Vuoi vedere che E Questo Se lo metto nella sinistra cambia qualcosa Eh beh Sì sì L'attacco pesante è diverso da solito Bello figo Quello simile ad Artorias o no? Già Non c'è nient'altro qua però Vabbè Allora bisogna andare da qualche altra parte Che non ho Non so Non ho capito Da Solite stronzate che dicono Dove vado? Dove vado? Dove vado? Dove vado? Impinghiamo la ro Qua non ci sono andato No Qua no